Buonasera a tutti, TMW News speciale del sabato che realizziamo quest'oggi da Castiglioncello in provincia di Livorno, come sempre tanti temi da trattare, saluto subito Aldo Firicano, ciao Aldo. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ti piace questa location speciale, eh, questa di oggi? Mi piace molto Castiglioncello, il mare alle nostre spalle, il ristorante La Baracchina, una delizia, quindi siamo nelle condizioni migliori oggi per fare queste battute sul calciomercato. Poi ci sarà anche spazio per un tuffo in mare, eh? Poi un tuffo, quindi oggi è una giornata perfetta direi, nel suo svolgimento fino ad ora perfetta. Parliamo allora di calcio e partiamo da Dzeko, che ha deciso di rinnovare con la Roma fino al 2022, una mossa sorpresa fino ad un certo punto, perché poi comunque avevamo capito che da parte della Roma non c'era lo spazio per trovare un sostituto ideale per il bosniaco e quindi si andava verso questa soluzione, certo è che comunque fa discutere, perché adesso quel giro di attaccanti che doveva innescare probabilmente avrà qualche problema in più a partire? Fa discutere più che altro società Juve, perché secondo me mette un po' in difficoltà la Juve, che deve piazzare comunque due o tre esuberi davanti, esuberi di grande livello, i di Bala, i Higuaín, Mandzukic. Credo che però sia una mossa logica, perché Dzeko rimane sempre un grande giocatore. L'età non è più giovanissima, ma la qualità è in dubbia, conosce l'ambiente, conosce ormai il calcio italiano. Sarebbe stato incomprensibile una cessione da parte della Roma, quindi secondo me era un'operazione da fare, addirittura penso sia stato un rinnovo, quindi la Roma crede in Dzeko e per quanto visto anche in questo precampionato Dzeko sta bene, si sente a suo agio e credo che anche con le caratteristiche degli altri giocatori possa fare una stagione esaltante. Tra l'altro sembra anche essere il giocatore ideale per gli schemi di Fonseca, fino a questo momento negli amichevoli, tra l'altro lui stesso ha dato la dimostrazione di essere dentro questo progetto. Assolutamente sì, è sicuramente tra i più positivi, ho visto qualche scampo di partita della Roma e con l'idea di Fonseca credo che un centravanti con queste caratteristiche, con queste qualità, si esalti. Quindi penso che per Dzeko si prospetta una stagione come altre ha fatto, di grande livello e per la Roma sia assolutamente un acquisto rinnovato, trovare Dzeko con queste nuove motivazioni e col fatto che adesso si senta anche gratificato. Pallotta ha fatto uno sforzo dal punto di vista economico notevole perché da qui al 2022 Dzeko guadagnerà 5 milioni a stagione. Questo è un segnale che Pallotta vuol dare anche all'ambiente secondo te per poter ritrovare anche un po' di affetto per la Roma da parte della gente? Secondo me la Roma aveva bisogno di alcune certezze dopo gli addi non in dolore di Totti e poi anche del ragazzo che è andato in Argentina, è chiaro che la Roma aveva bisogno di alcune certezze e in questo momento Dzeko è una certezza, quindi bene ha fatto la società a confermare e poi la Roma ha bisogno secondo me di partire bene, di fare subito un buon campionato perché appunto le partenze dolorose di De Rossi e Totti, tra l'altro un giocatore e un altro è dirigente e poi il campionato dell'anno scorso che è stato altalenante, la Roma ha bisogno di partire forte per ritrovare quel feeling con la piazza che è assolutamente necessario. A tuo parere questa permanenza di Dzeko potrebbe essere vantaggiosa anche per attrarre altri grandi giocatori che potrebbero arrivare alla Roma? Potrebbe essere una sorta di garanzia sul progetto Roma? Secondo me sì, perché a questo punto Roma vuol dire una squadra ambiziosa perché tenere Dzeko, fare alcune altre operazioni, alcuni giocatori forti ci sono già, io questo non me lo dimentico e alcuni anche di prospettiva, quindi la Roma rimane sicuramente oltre a una piazza ambita importante è una squadra che è vogliosa di crescere e migliorare, quindi da questo punto di vista, in questo scorcio di mercato se qualche giocatore viene contattato da Roma ci sono motivi in più perché questo possa accettare. Poteva essere il colpo Lovren per i giallorossi, il difensore del Liverpool poi è saltato per un mancato accordo sull'ingaggio, poteva essere davvero un bel rinforzo? Secondo me sì e non è detto che magari ci possa essere un ritorno, insomma una trattativa che può riaprirsi che per ora sembra chiusa perché Lovren comunque rimane un difensore importante di spessore, di personalità e quindi dopo la partenza di Manolas forse credo che un giocatore in quel reparto di un certo spessore vada inserito. Torniamo adesso a parlare di Dzeko ma anche del giro attaccanti e lo facciamo con un grande esperto di mercato un grande direttore sportivo come Luciano Moggi. Io credo sia una mossa giusta questa qui e se volete che vi dica il parere mio non è neppure perché Dzeko debba arrestare a Roma può darsi pure per dare più forza alla sua società, per prendere più soldi Io in questo momento ritengo che la Roma praticamente possa arrestare con Dzeko però attenzione perché potrebbe verificarsi Dzeko e Icardi e potrebbe anche verificarsi la mossa di Guain che va alla Roma al posto di Dzeko. Però ecco in questo momento la Roma sembrerebbe essere a posto con Dzeko se dovesse rimanere davvero perché poi comunque è vero che c'è l'ipotesi Icardi però è anche difficile poter accontentare l'Inter dal punto di vista economico. Questo di accontentare l'Inter è una favola anche perché l'Inter deve accontentarsi di quello che gli danno visto che è considerato che ha detto che non faceva parte di un progetto e quando una società dice a un proprio giocatore che non fa parte del progetto significa metterlo fuori categoria rispetto a quelli anche che sono gli stipendi che ha preso fino ad ora per cui lui in questo momento dai 110 milioni che valeva può darsi che l'Inter o lo tenga perché non li ho prende nessuno in tribuna almeno per un anno oppure lo cede a 20-30 milioni di più non penso e la Juventus potrebbe essere un acquirente di questo giocatore a queste condizioni. Anche se in questo momento l'Inter non sembra così intenzionata a voler favorire Bianconeri? Intanto sarebbe una mossa un po' particolare perché una società che spende 75 milioni per comprare Lukaku poi rischia di azzerare quella spesa dando un giocatore a poca lire a un'altra concorrente quindi voglio dire non ritengo che sia una cosa fattibile però nel calcio c'è sempre quello furbo e quello meno furbo quindi bisogna stare attenti a una cosa del genere e certo che la Juve a 80-70 milioni non lo comprerà mai a 30 milioni può prendere Icardi. E il Napoli in percentuale quante possibilità ha di poter arrivare a Icardi? Se mi chiedete del Napoli io vi dico che il Napoli sarebbe la squadra ideale per Icardi perché Icardi è un giocatore bravissimo nei 16 metri avversari, forse il migliore e il Napoli che gioca praticamente un gioco corale è l'ideale per un giocatore che aspetta il pallone per esempio nella Juventus secondo me non sarebbe la stessa cosa perché lì già ce n'è uno che aspetta il pallone del Ronaldo, due sono troppi per un centrocampo che praticamente può essere anche bravo ma è un centrocampo che sostanzialmente è agonistico più che tecnico perché i Rabiotte, i Matuidi adesso andrà via ma comunque Matuidi e Cian sono tutti giocatori di determinate caratteristiche per cui il problema di buttare due giocatori insieme diventa duro Nella Roma se facessero uno scambio con Zeko non ci sarebbero danni particolari perché la Roma è di limitate ambizioni almeno al momento attuale quindi il fatto di darlo a una concorrente alla Juventus lo escluderei il fatto di darlo al Napoli potrebbe mettere in condizione il Napoli di competere per il titolo perché probabilmente è proprio la squadra ideale per questo giocatore Nel corso di questa intervista con Luciano Moggi abbiamo parlato anche di Icardi come hai sentito Aldo e sostiene Luciano Moggi come non debba essere accontentata l'Inter dal punto di vista economico ma dovrà la società Anderazzurra accontentarsi di quello che arriverà in questo momento, sei d'accordo? Come non essere d'accordo con Moggi che rivisto dopo tanto tempo con piacere, sempre in grande forma e sì, non solo questo e poi aggiungerei che va accontentato Icardi, questo non è un aspetto non trascurabile Icardi che come prima idea voleva o forse vuole rimanere all'Inter ma vista la dinamica, lo sviluppo dell'arrivo di Conte credo che poi alla fine debba in qualche modo se si vuole mettere in discussione cercare un'altra soluzione ma questa soluzione deve essere assolutamente di suo gradimento, quindi prima di tutto credo che ci sarà da accontentare Icardi e poi l'Inter dovrà prendere quello che viene Però ecco, pensare che l'Inter cedendo Icardi alla Juventus possa rinforzare una concorrente è una cosa a tuo parere possibile o no? Secondo me no, non è praticabile L'unica cosa che potrebbe esserci uno scambio Con Di Bala Credo con Di Bala Credo con Di Bala, a quel punto la valutazione sull'operazione va fatta anche in virtù del giocatore che arriva quindi Di Bala che è in cerca di riscatto, che ha determinate caratteristiche che forse all'Inter possono servire una seconda punta di grande talento, quindi solo in questo caso c'è da valutare questa operazione altrimenti credo che logica vuole che l'Inter farà di tutto per non rafforzare ancora di più la Juve Però al tempo stesso c'è da dire che il Napoli, soprattutto se come pare dovesse saltare James potrebbe giocare davvero tutto per tutto per arrivare ai Cardi? Ma sai, io l'ho detto tempo fa quando abbiamo chiacchierato che pronosticavo i Cardi a Napoli anche il Napoli se vogliamo è una diretta concorrente però forse quest'operazione ha più fondamento, ha più speranze che poi arrivi in porto per tanti motivi e io credo che tra le destinazioni che i Cardi può avere in Italia Napoli sia probabilmente quella più praticabile, non so fino a che punto ma più praticabile L'altro De Laurentiis a tuo parere dopo che è saltato o comunque salterà James ha bisogno di un colpo di questo genere, è vero che è arrivato Lozano per il quale sono stati spesi 42 milioni di euro, però un colpo di questo genere potrebbe davvero infiammare Napoli? I Cardi nel calcio italiano, anche in altro calcio, però in Italia è una garanzia quindi è un'operazione che chi la fa sicuramente ha da avere dei vantaggi però il Napoli non dimentichiamoci che prendendo Lozano comunque ha un reparto offensivo importante c'è sempre Milik, un giocatore che comunque nonostante gli infortuni ha dimostrato di essere un grande giocatore quindi Napoli pocce caricati però con tranquillità visto che comunque c'ha nell'organico dei giocatori importanti A proposito di Lozano diceva Andrea Orlandini che abbiamo intervistato per tuttomercatoweb.com ma che potrebbe essere un doppione di insigni, potrebbe verificarsi anche questo problema per Ancelotti di collocazione per Lozano? Caratteristiche sono di un attaccante anche di quel tipo, però secondo me i giocatori di talento riescono a integrarsi riescono comunque a trovare in campo il modo di coesistere, quindi non lo vedo un grosso problema quindi da questo punto di vista credo che Lozano sia comunque un ottimo acquisto e poi che comunque il Napoli ha tante partite, quindi c'è una tornazione naturale quindi non credo che ci siano dei problemi di coesistenza fra i due Voltiamo ancora la pagina e parliamo adesso del Milan, il Milan dei giovani le valutazioni ancora da parte di Luciano Moggi Il progetto giovani può essere interessante, basta non aspettare i risultati io credo che il Milan grandi cose non abbia fatte però ha una squadra sicuramente che può stare nei posti dal quinto al sesto posto per l'Europa League altre ambizioni non penso che ne possa avere al momento attuale considerando quello che è stato fatto fino ad ora poi se le cose cambieranno, se i giocatori matureranno il Milan potrà fare qualcosa in più, ma non certamente quest'anno nei prossimi anni, quest'anno deve stare attento a stare nelle posizioni quantomeno di Europa League Allora ripartiamo proprio dal Milan, dalle valutazioni di Luciano Moggi ma anche da una considerazione di Aldo Firicano su Correa questo giocatore che è diventato un obiettivo assoluto da parte dei rossoneri nonostante le difficoltà il Milan cerca di arrivare a questo calciatore ma può essere davvero in grado di far fare questo salto di qualità al Milan? Ne parlavamo anche ieri nel corso della nostra trasmissione Sul valore del giocatore non ci sono molti dubbi nel senso che è un giocatore importante, che è un giocatore bravo però su questa insistenza del Milan ho qualche perplessità perché poi il Milan ha all'interno della sua rosa e naturalmente poi non entriamo nei problemi di carattere meramente economico dei giocatori direi su uso, su tutti, che possano sopperire o fare quel lavoro che può fare Correa, che è un giocatore forte che è un giocatore capace anche di far saltare le partite per le sue qualità però insomma c'è questa caccia assoluta a Correa che mi pare un po' eccessiva poi naturalmente sarò smentito leggevo anche di Maldini che oggi pare vada a chiudere questa operazione la vedremo poi sul campo effettivamente perché poi tutto, non dimentichiamo, ci va tradotto nel campo con punti e prestazioni detto questo vedremo anche qui secondo me potrebbe esserci un problema di coesistenza fra Suso e Correa ma poi insomma saranno problemi di Gian Paolo Nell'ultima parte della nostra trasmissione parliamo anche della Fiorentina fino a questo momento che giudizio dai sui colpi Viola, Badel, Pulgar, Boateng, Lirola? Ma il giudizio è di una squadra che doveva rinforzarsi e che ha fatto il minimo sindacale pur mettendo buoni giocatori perché Lirola è un buon giocatore perché Badeli nonostante l'anno alla Lazio comunque rimane un centrocampista di spessore e lo stesso dicasi per Pulgar che è un buon prospetto e Boateng anche se diciamo mai un giocatore esperto però può dare assolutamente qualcosa detto questo questa è la base su cui la Fiorentina dovrà ripartire e aggiungere in questi ultimi giorni di mercato quello che sarà di più il plus della Fiorentina quindi mi aspetto in questa ultima parte di mercato che la Fiorentina vada a completare davvero le caselle mancanti aggiunga un centrocampista si chiarisca le idee sull'attaccante e dia qualche alternativa perché a questo punto la squadra sarebbe sufficiente però credo che la Fiorentina debba avere l'ambizione di essere molto più che sufficiente di andare a tendere verso al buono se non l'ottimo A proposito di Fiorentina sentiamo Luciano Moggi che parla dell'ipotesi Ibrahimovic per Eviola giocatore che lui conosce molto bene e che secondo Moggi potrebbe dare ancora tantissimo a Eviola o comunque al calcio italiano Io non è che ho lanciato l'idea di Ibrahimovic mi è stato detto se Ibrahimovic era il giocatore ideale io ho detto che Ibrahimovic sicuramente per la personalità che ha, per il fisico che ha se è biologico quello di Ronaldo sicuramente è biologico e agonistico quello di Ibrahimovic magari ha un anno in più di Ronaldo però la sostanza è che lui in questo momento in America sta spopolando è vero che è più facile spopolare in America ma è anche vero che i gol bisogna saperli fare lui sa fare e li sa fare anche perli per cui avere qui uno di quell'esperienza uno di quel carisma in una squadra che sostanzialmente avrebbe proprio bisogno di essere portata per mano credo sarebbe l'ideale E la soluzione sull'ingaggio si troverebbe? Io penso proprio di sì anche perché, attenzione, io che conosco bene Ibrahimovic non è un piantagrane è uno che riesce sempre a entrare bene nell'ambiente a farsi voler bene e anche all'occorrenza ridursi un po' lo stipendio perché ormai ha guadagnato così tanti che penso ridursi di due o tre milioni lo stipendio non farebbe niente Aldo, che cosa pensi di questa ipotesi Ibrahimovic? Saresti favorevole ad un ritorno in Italia e nella fattispecie alla Fiorentina dello svedese? Ma stavolta con Moggi non siamo d'accordo tante volte non siamo d'accordo con Moggi e neanche questa volta nel senso che il giocatore rimane un giocatore grandissimo è stato, è un grande campione adesso è un campionato leggermente diverso rispetto ai nostri europei è un giocatore che ha dato il meglio già perché ormai è abbastanza grande in avanti con l'età e quindi credo che per la Fiorentina nonostante sia un giocatore di un certo livello non è l'obiettivo, il target adatto bisogna cercare qualcosa naturalmente di più giovane e poi sentire attraverso le idee dell'allenatore che caratteristiche servono anche se un attaccante in generale credo che la Fiorentina serva Faresti delle valutazioni su Llorente che non è solo un giocatore accostato alla Fiorentina ma anche alla Lazio, al Napoli ecco per esempio è un giocatore che piace è un giocatore di rendimento professionista molto apprezzato e che quindi se una squadra ha bisogno di un centravanti diciamo un po' vecchia maniera molto forte di testa bravo nelle sponde fisico secondo me il profilo il profilo di questo ragazzo è assolutamente interessante in generale questa Fiorentina poi ti dà delle sensazioni di poter arrivare a lottare magari per l'Europa Liga è chiaro che ci sono ancora 15 giorni di mercato e può succedere ancora di tutto però adesso che sensazioni hai? Senti, è tornato l'entusiasmo intanto in città e questo credo che sia una cosa fondamentale perché poi le cose devono andare sempre di pari passo l'entusiasmo della piazza l'umore della piazza e la qualità della squadra come ho detto prima la qualità della squadra io mi spero mi auguro che cresca in questo finale di mercato perché insomma deve essere come dire direttamente proporzionale all'amore al passione del tifo che insomma già siamo in campagna abbonamenti abbondante quindi c'è molta attesa io mi auguro che la Fiorentina possa ancora rinforzarsi perché la Fiorentina è una delle una volta c'è una delle sette sorelle ma comunque è una delle protagoniste del campionato italiano Siamo arrivati ai saluti qui da Castiglioncello provincia di Livorno abbiamo realizzato il nostro TMV News per Aldo Firicano è arrivato il momento del tuffo in mare sei anche un grande notatore lo abbiamo già sottolineato a più riprese in altre circostanze notatore tennista ciclista tranne calciatore che ormai ho già dato che l'appartiene al passato passato per il resto ci arrangiamo grazie ad Aldo Firicano e Lorenzo e grazie a tutti voi per averci seguito buon proseguimento di serata a più e per averci